Il ricorso alla violenza è autonizzato. Stiamo vincendo. Stiamo perdendo. Stiamo vincendo. 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 vincendo. Stiamo vincendo. Stiamo vincendo. Aereo spie alleati in arrivo. Aproggiamo il tipo di consegna, disegnate il punto di sgancio. Aproggiamo il punto di sgancio, disegnate il punto di sgancio, disegnate il punto di sgancio. Aproggiamo il punto di sgancio, disegnate il punto di sgancio, disegnate il punto di sgancio. 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 Approvvigionamenti alleati in avvicinamento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie!